sono con oscar farinetti benvenuto al libro possibile ma grazie allora il titolo del tuo libro quello che presenti al libro possibile è un dilemma universale è nata prima la gallina forse innanzitutto perché quel forse e soprattutto cosa c'entra la gallina c'entra perché tutti si lamentano sempre che ho deciso di scrivere sto libro perché nel 2019 wingalup azienda dei sondaggi fa un sondaggio mondiale sui 130 nazioni indice di fiducia e ottimismo quindi di felicità e noi italiani siamo riusciti a arrivare ultimi 130esimi quindi il popolo che è nato nel più bel paese del mondo è il più triste del mondo non trovi che da pazzi e allora ho deciso di scrivere un libro sull'ottimismo e per spiegare che crisi deriva da crisi greco che vuol dire scegliere il si è detto scegliere quindi ho preso il dilemma dei dilemmi è nato prima la gallina e ho scelto ho scelto la gallina e spiego perché secondo me è nata la gallina in 52 racconti diversi storici poi però tre punti di forza perché sono mica sicuro io non sono mai sicuro di quello che dico racconto il dubbio il dubbio fondamentale quindi se per caso mi sono sbagliato che invece è nato prima l'uovo torno indietro prendo la strada dell'uovo però l'importante è scegliere la strada bad decision is better that no decision assolutamente infatti il dilemma nel dilemma nel tuo libro scrivi saper donare amore è forse tanto difficile quanto scegliere tra l'uovo e la gallina tu come hai fatto fino ad ora ma ho scritto una roba del genere sei sicura invece l'ho letta l'ho ascoltata dire la verità saper donare amore è la scelta se decidi di donare amore è la scelta ed è difficile molto difficile perché implica poi le robe farle se no è un love come si dice un love washing capito fai finta di trovare sì bisogna scegliere e la strada migliore è scegliere l'armonia con le persone il miglior modo avere dei dubbi e la roba più importante che alla fine nasce dall'idolo in questi quattro due raccolti e far venire voglia alla gente di leggere sai che noi italiani che siamo terzi in europa per pil per tasso di lettura per te per ricchezza siamo 23esimi 23esimi per tasso di lettura per questo vengo volentieri manifestazioni come la vostra che invitano le persone a leggere cosa serve leggere a farsi venire dei dubbi ad affrire la mente a farsi venire dei dubbi quelli che non leggono le riconosci perché sono sempre sicuri perché l'unica cosa che conoscono è proprio un pensiero ha mai letto un tubo e pensano che quella sia la verità è un paese con pochi dubbi l'Italia bisogna farne venire per questo è forse è la parola più scritta ma dici sempre essere italiani è una grande fortuna ma bisogna meritarselo che vuol dire già farselo perdonare perché nessuno di noi tu hai deciso di nascere in Italia si o no hanno deciso hai deciso di nascere la tua famiglia no no hai deciso quello della tua pelle hai deciso se sei donna o maschio hai deciso il tuo orientamento sessuale non hai neanche deciso la tua religione perché non hai deciso la famiglia in cui sei nata quindi dobbiamo farcelo perdonare questo culo pazzesco di essere andati al più bel paese del mondo assolutamente abbiamo la più grande università alimentare abbiamo il 70% dell'arte antica del mondo abbiamo sta roba qua ogni volta che vengo sarà 10 volte che vengo ogni volta che vengo resto incattato c'è qualcosa che non ho mai visto c'è qualcosa che non ho mai visto c'è qualcosa che non ho mai visto